Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Survival Island Nello scorso episodio ragazzi abbiamo perso malamente contro questo maledettissimo Steelix tipo Formalol una roba bruttissima E poi siamo andati a esplorare un pochino l'isola perché non sapevamo che cazzo fare in sostanza Ma ragazzi quest'oggi otterremo la nostra maledetta rivincita con un team che se riuscissi a far partire la ROM potrei anche farvi vedere Eccolo qua un team evoluto abbiamo Nidorino, Merda, Furret, Odish, Geodude e Mari poi evoluto due Pokémon gli altri li ho allenati Ragazzi ora vi starete chiedendo Creepy Bastardo, Cittone, hai preso un Geodude, non avevi le Pokéball? Sì ma cosa è successo in realtà? È successo che alla fine della scorsa registrazione mi è andato a puttane il salvataggio quindi ho dovuto ricaricare un salvataggio precedente E allora io da persona astuta cosa ho fatto anziché sprecare 5 Pokéball per Jigglypuff Ho catturato direttamente un Geodude al livello 18 che ragazzi adesso ve lo faccio anche vedere È davvero una bestia, ogni tanto non caga i miei ordini però non è niente male Ok gli EVS stronzate varie, Rollout, Rock Polish, Rockfru e Magnitude È un buon Pokémon, ci tornerà molto utile contro Steelix se fa quello che deve fare Facevo una cosa raga, salviamo qua Io se perdo, bestemmio Dio E non vorrei farlo però, non vorrei farlo perché poi dopo devo censurare Non posso censurare, allora sconfiggiamo sto Steelix Ma fuie, vedi di prendere delle botte o non mi sclicchiamo perché già l'ho fatto prima Ok double kick, vediamo quanto riusciamo a fare Sarò sincero con voi Sarò sincero con voi Mi aspettavo di più Allora, ok, con molta calma adesso Porca puttana Allora Non saprei Allora, proviamo a mandare Oddish Gli provo a fare uno stun Spore Earthwake prova a reggere, ti prego Reggi Perché Due ore di grinding andate a puttane Mi spiegate? Io come faccio a buttare giusto essere malefico Magnitudo 7 Ok, potrei reggere un altro magnitudo 7 Forse, forse anche un 8 se mi va di culo Ma magari fai qua Iron Tail Reggi, 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 reggi Ok Fai un altro Furious Uai ragazzi, provo e cosa devo fare io altrimenti Cioè non ecco molta scelta Copisci un 5 volte e niente da fare ovviamente Sia mai ragazzi, sia mai Magnitudo 8 Perfetto, è morto 15 volte questo Furret Perfetto, buongiorno Grazie mille e arrivederci Proviamo a mandare merda ragazzi Faccio due Arial Ace E poi provo un magnitudo della disperazione Sperando di fare magnitudo 10 Di seccarlo sul posto Iron Tail, vediamo quanto mi fa Oh, mi do uno Che culo Ok, ok, allora Ok, ha fallito Ha fallito Ok, ragazzi forse Ce la possiamo fare Oh, tutto dipende ragazzi Da quanto può Da quanto toglie Geod Mi hai buttato giù davvero così Non ci facciamo un po' schifo No Zero Ok, raga Geoduda anche Sturdi Iron Ha missato Ha missato Ha missato Magnitudo Nove Nove ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mi chiesto non lo butto giù Sì Sì Raga so che potevo catturarlo Ma non me ne frega niente Volevo ammazzarlo sul posto 510 punti esperienza Geoduda anche a livello 19 probabilmente No Sono stato sconfitto Come ti ho promesso Ti farò passare Potremo incontrarci di nuovo Tornerò domani È appena schiacciato uno strumento Però vabbè dettagli Ok perfetto Come sospettavo HM01 cut Supplies Ok Perfetto Questo penso sia utile Non lo so Comunque ha detto che potrebbe tornare domani Quindi forse ci saranno altre possibilità di catturarlo E potrei provare a farlo fuori parte Volendo ragazzi Ora Proverai Creatori Creatori Bravi per carità Ma Oddio Oddio dove cazzo sono Oddio che roba bella Ok 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 calma Calma non so dove sono Allora aspettate Esploriamo un attimo sta zona qua Perché potrei trovare Apricorn Bacche e robe del genere Vediamo che po' come ci sono Oddio lo scenario Lo scenario che cosa bella Oh sono riuscito a passare Però raga ho davvero poca vita Oh qua volendo potrei piantare delle bacche Ma non lo farò raga Perché ora che arrivo fino a qua Muore Gesù Bambì Numel Dio che bel posto Allora Numel raga lo butto giù Perché Ah non voglio sca Ok magnitudo 6 Dovrei reggerlo Dicevo Non voglio scappare come un pazzo Perché poi sapete che Inciampo nelle rocce Ho scoperto che si inciampa Nelle rocce E ci si fa male Alla salute del personaggio Quindi eviterei In compenso Saliamo quasi A livello 19 Quasi A livello 19 Ovviamente Perché sia mai Che io possa salire Di un livello decentemente Vediamo chi altro c'è Machop Ok Però da Machop Io sinceramente Preferirei scappare Ecco Trip Donna fucking rock Vaffanculo Lo sapevo io More da apricorn Si Queste le pianto subito vicino a casa Appena riuscirò a tornare Ovviamente Il che è Discutibile Durata Il tempo che Che ci impiegherò Per tornare a casa Però Dettagli Row up bears Non so sinceramente Cosa siano Quella è un apricorn Quelle sono apricorn blu Servono per le megaball Penso almeno Perfe Madora Che cosa bella Questo è un paradiso terrestre A parte che è una zona Totalmente nuova E tra l'altro Poi possiamo utilizzare Taglio per altre Cosucce Ok Wow Minchia no raga Troppo figo Però Aspettate Io Penso che queste zone qua Forse è il caso di esplorarcele Dopo in teoria Perché Non vorrei incontrare Gentaglia strana In questo momento Quindi magari Mi faccio un save state Qui Aspettate Facciamo subito Salviamo Ma salviamo Sullo slot 3 Magari io fuori parte Esploro un attimo Per andare a vedere Senza raccogliere nulla Di che Per andare solo a fare Tipo una sorta di Com'è che si dice Una ricognizione Oh Guarda che cosa bella Queste qua sono 5 red apricorn Raga un paradiso Questo è Questo è letteralmente Un paradiso Siamo a 7 minuti Ho già trovato la madonna La qualità In teoria dovrei scendere di qua Vorrei tornare all'inizio Perché anche là C'erano delle zone da esplorare Queste qua raga Appunto me le terrei Per un futuro E magari me le esploro Da solo Se non c'è nulla Di particolare Perché altrimenti Vi beccate solo C'è me Che raccolgo Apricorn Ok Cos'è sto posto Non No Fuori Non ho Non ho Non ho Non ho i pokemon curati Non mi Non mi conviene Ve lo assicuro Allora Noi da dove siamo venuti fuori Da qua Giusto Ok Sì Noi siamo venuti da qua Quella grotta lì Qua sotto Mi puzza Sapete di cosa Di collegamento Col mondo Reale C'è Oh che bello Sì Basecamp 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 ragazzi Sì così Mi piace sta cosa Mamma Sto gioco qua Ha dei piccoli difetti Di programmazione Roba del genere Cose strane Però C'è una figata Parliamone Ok Ok Adesso ci siamo raga Allora Stilex Abbiamo battuto Siamo a 9 minuti circa Con i tagli Verrà un po' di meno E io Sinceramente Oh perfetto Adesso si vede anche Incredibile Non l'avreste mai detto Io andrei Addirittura Tra l'altro aspettate Se mo qua c'ho un basecamp Secondo me Posso già Vado lì e pianto Le apricorns ragazzi Vado lì e pianto Oh meditite Che figo E E appunto ragazzi Direi che possiamo Stare qui Per ora Visto che abbiamo un basecamp E Esplorare questa nuova zona In sostanza Wow Sono già venute fuori Però aspettiamo raga Adesso direi di andare Ragazzi qua Tra l'altro non si può andare Da nessun'altra parte Se non di qua Aspettate Vediamo un po' Se di qua c'è qualcosa di particolare No ok È un collegamento Forse alla parte di prima Quindi direi Ok adesso ci buttiamo nel tempio Raga ve lo giuro Ok Volevo trovare delle bacche a centro Vi stavo dicendo Perché mi avete detto Nei commenti Che fondendole con le bacche Che vi ho fatto vedere Nello scorso episodio E che forse ho anche nella borsa In questo momento Perché ne ho piantate Un fottio fuori parte Qualot Berry E Hondi Berry In teoria dovrei riuscire A fare delle pozioni potenti Tipo le super pozioni Comunque allora direi raga Che metterei davanti merda Perché raga Stiamo per entrare In un luogo sacro E non è che possiamo Fare chissà cosa Però vediamo un po' Se dice qualcosa No niente di che Ok vediamo un po' Wow Allora il posto è molto figo Lo metterei Minch Oddio Ma questi qua sono Teletrasporti No ok Sono solo Dei fuocherelli Bruttissimi E di qua Si va tipo in altre zone Ok Oddio Ok Fermi 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 Quello lì è uno slugma Ci siamo Perché è lì Cosa devo farci Geodud aiuto Allora Si Sempre di qua si arriva Non c'è nulla di particolare Qua in teoria Quindi raga Direi che potremmo provare Secondo me A ribaltarlo Tanto noi abbiamo Geodud Che secondo me In teoria Dovrebbe cavicchiarsela Gao Buongiorno Ok tra l'altro Non è un boss È solo un selvatico Perfetto Potrei anche pensare Di prendere lo slugma Raga volendo Ma fuori parto Ho trovato un vulpix Quindi se devo scegliere Un po' come di fuoco Andrei su di lui Magnitude Potenza 6 Potevi fare un po' di meglio Caro mio Scusa Non volevo Geodud Scusa Scusa Possiamo proseguire Tra l'altro raga Ma Non c'è nulla Cioè era Era davvero così Cioè la tristezza Forse avrei potuto Catturarlo Ripensandoci Questa roba qua Non so se ci fosse Prima Oddio raga È davvero così fine A se stesso Sto posto Tristezza Allora Di qua non penso Ci sia molto da fare No Ah wow Ok È tipo un posto Per evocare Gente E avrei dovuto Catturare Slugma a sto punto Io mica ci ho pensato Raga però Cioè nel senso Come facevo io A pensarci Dovrei più che altro Catturare a sto punto Un po' come di tipo Fuoco Oh c'era Numel Però qua in giro Provo a catturarlo Raga Facciamo che taglio E mi faccio Ribeccare Appena lo trovo Ok ragazzi Ci siamo Ho trovato Numel L'ho catturato Cioè tipo fuoco Bomba Sto pazzo Però ragazzi Dovrebbe andare bene In teoria Anche Ember Quindi non penso sia un problema Proviamo Ok Perfetto La prima si è accesa Non so se evocherà Qualche pokemon strano Attiverà qualche potere particolare Me la giocherai sul potere particolare In questo momento Però vediamo un po' Questa è l'ultima Cosa si è aperto? Ah si è aperto Ah si è sbloccata la scala Hai visto? Ok 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 sto posto qua è Abbastanza Sta diventando inquietante Ok Ok Perché non mi fa entrare? Cosa devo fare? Devo accendere anche Tu Centri qualcosa? Non mi fa entrare Raga Perché? Non riesco a capire il motivo Qualcuno mi aiuti Non capisco come Perché non mi fa entrare Raga? Forse Devo spegnere qua Non lo so Sapete? Fammi entrare Oi Fammi Devi farmi Fammi entrare Non riesco a entrare Commovente Ok Non mi viene in mente Nulla da fare Sì comunque ho depositato Merit ragazzi Non mi viene in mente Nulla da fare Proviamo a tornare un attimo Indietro Vediamo se C'è magari da attivare qualcosa Più avanti Magari Che mi sono perso Non lo so Può anche darsi a sto punto Allora 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 Questa roba qua Tra l'altro Sembrano quasi degli Onno Ora che noto Le piastrelle Però non penso C'entri molto in realtà Ok Di qua Non c'è Un cavolo No raga Non mi sembra che Cioè Non riesco a capire Come andare avanti Perché E perché no Perché non riesco a capirlo Cioè Non è che c'è molto da 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 rimuginare Cioè qua ho acceso Le torce le ho accese tutte Ok Devo spegnere qualcosa E questo qua mi puzza un pochino Raga Proviamo a fare una cosa Proviamo a insegnare un attimo Taglio Così giusto per Per sfidere Tanto lo dovrò fare raga Quindi è meglio farlo prima Direi di insegnarlo A merda Visto che è un pokemon Che storicamente Ha taglio Proprio nella storia della vita Direi di togliere E fare gli attacchi Che tanto raga Sto punto Ok Perfetto Possiamo Magari C'entrava taglio Chi lo sa Proviamo ad utilizzarlo Sapete che Non ne ho idea No ok Non si può usare qui Non lo so raga Fatemi sapere nei commenti Come andare avanti Senso spoilerare Cosa c'è dietro Quella porta lì Se si può andare Dietro quella porta lì O se magari È semplicemente un Un gioco in demo Questo E allora magari Si si sbloccherà Più avanti Però per ora Non saprei proprio Come proseguire Magari uscendo dal tempio Si svela qualcosa di strano Vediamo se devo Magari premere qualcosa Qui Chi lo sa Non lo so Non lo so Non ne ho proprio idea Ragazzi Vedremo poi E allora Questo qua Come sospettavo Il ricollegamento Alla grotta Ok perfetto Ragazzi Allora Clay fairy Vattene Double slap Fallice No ragazzi Allora Volevo semplicemente Dirvi che Nel prossimo episodio Innanzitutto Prima di iniziarlo Voglio leggere i vostri commenti Poi andrò a esplorare Un po' in giro Per questa nuova zona Cercando magari Delle bacche O comunque cose da fare Che ne so Io caverne Che poi vi farò vedere Ditemi anche Come si torna all'inizio Perché c'erano delle zone Contaglio Che andrebbero viste E servirebbe Vederli in realtà E nulla Quindi Se magari Questo clay fairy Mi lasciasse Proseguire La mia esistenza In santa pace Grazie tesoro Sei sempre il migliore Oh Grazie Geodude Un genere Tra l'altro raga Registro Mi obbedisce sempre Non registro E non mi obbedisce Fate voi Non lo so Perfetto Quasi livello 20 Per lui E possiamo Tornare Nella nostra base Quindi ragazzi Io spero che questo quarto episodio Vi sia piaciuto E' stato veramente ricco di cose Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se volete sostenere questa serie Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E commentate qua sotto Consigliandomi Dicendo Facendo Insomma Quello che volete Mi raccomando Passate i social In descrizione E prima della campanella Che troverete Di fianco al nome del canale Qui sotto Per ricevere Insomma i feed Insomma lo sapete Alla fine Per cosa serve La campanella Detto Johnny Ci becchiamo in un prossimo Video Tornare